L'Arma dei Carabinieri ha celebrato oggi nella parrocchia San Giovanni Evangelista di Machitella Gela la sua celeste patrona, la Virgo Fidelis. Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed il sindaco Domenico Messinese. Erano presenti inoltre i genitori di alcuni militari dell'Arma, vittime del dovere. La Madonna Virgo Fidelis è stata nominata patrona dell'Arma dei Carabinieri nel 1949 dall'allora Papa Pio XII in virtù della secolare tradizione dell'Arma di fedeltà alla Patria e alle istituzioni ed in analogia con il suo motto, nei secoli fedele. Celebriamo la Virgo Fidelis, la Vergine Fedele, la Madonna alla quale noi ci rivolgiamo e rivolgiamo le nostre preghiere nel ricordo dei caduti. Oggi celebriamo anche la giornata dell'orfano, quindi attraverso delle donazioni aiuteremo gli orfani e i militari dell'Arma dei Carabinieri. È il 74esimo anniversario della battaglia di Culco, in cui si consumò un eroico sacrificio da parte dei carabinieri riuniti nel battaglione Carabinieri Zaptie nella battaglia d'Africa in Africa orientale nel 1941, esattamente il 21 novembre. Maggiore, è un periodo in cui si parla dell'arma e attentati. Come vivono i carabinieri in questo momento? I nostri uomini sono impegnati nella sicurezza del territorio, qui a Gela, a Niscemi, a Butera, a Riesia e a Mazzarino. Per questo io ho voluto che i comandanti delle stazioni e i carabinieri, una rappresentanza dei carabinieri delle stazioni, fosse qui presenti questa mattina alla chiesa, alla parrocchia di San Giovanni Evangelista. Naturalmente ricordiamo quelli che non ci sono più e guardiamo anche al futuro, soprattutto con un impegno ancora maggiore in questo momento così difficile per la sicurezza del nostro paese.